80 anni fa il Vesuvio è esploso per l'ultima volta. Quando avvenne duemila anni fa fu un disastro immane e Plinio il Vecchio ne fu testimone e vittima. Chi è Plinio? È il padre di tutti i divulgatori, è autore della storia naturale, la prima enciclopedia per tutti, con ventimila voci di cosmologia, geografia, botanica e medicina, tutte scritte a mano, detto tra noi probabilmente in origine c'era anche qualche disegnino, magari del basilisco che uccideva con lo sguardo o dei popoli con un occhio solo o una sola gamba. Come in tutti i lampi di Genio, Plinio racconta la sua vita in prima persona, da quando è nato a Como, città della Gallia Cisarpina, è un nobile romano, un cavaliere che fa carriera nell'esercito, in Germania, Belgio, Spagna. La sua vita è scandita dai primi imperatori, il grande Tiberio, il pazzoide Caracalla, Claudio ed orribile Nerone che sinceramente lui detesta. È amico di Vespasiano, di suo figlio Tito, al quale vorrebbe dedicare la sua storia naturale, ma non riuscirà a farlo quando il Vesubio comincia a eruttare e ammiraglio della flotta romana a Miseno, la punta a nord del colfo di Napoli, organizza una missione di soccorso che è la prima missione di protezione civile della storia, ma così muore insieme a migliaia di altre vittime investito da una nuvola rovente. La storia naturale con le strane creature e le mille curiosità che contiene, è il suo, lampo di genio, ma il suo nome sarà sempre collegato all'evento terribile che ha colpito Pompei e i suoi abitanti. Quest'anno Primio compie duemila anni, ma è una storia di scienza e natura sempre più attuale. Auguri a lui, a voi e tanti lampi di genio a tutti.